Io se ti lascio questo telefono adesso e tu mi dai 250 euro, io te li riporto domani e te ne do anche 280-300, tu mi ridai il telefono indietro, se io non te li riporto tu ti tieni il telefono, mi dai il massimo 1-2 giorni, io adesso esco di qua conto solo una cosa per fare soltanto, perché questo qui posso dirti una cosa, è il mio cuore che ti sto lasciando, se io te lo lascio ti chiedo soltanto una cosa con il mio, di 1 a 5, di non guardarmi, di non toccarmi niente, perché sono accennato, tocco, mi guardo qualsiasi cosa, mi impazzo a poggeri tutto, se le cose mi vanno bene, ti ricompesso a quanto riguarda, se vuoi togliere la pellicola per dare il controllo devi essere sicuro 100% di quello che ti ho detto, perché questa pellicola è anche illecita, non riesci, non riesci, non riesci, non riesci, non riesci.